Via verde atto finale in Lago Dragoni, Torino di Sangro, con enormi massi che riempiono voragini, ricostruiscono il vecchio sedime ferroviario con leggera pendenza e non in quota, in gergo, una corda molle. In due mesi dall'inizio dei lavori nel tratto più critico per erosione frane di sesto idrogeologico della pista ciclopedonale Costa dei Trabocchi, il tracciato ha preso forma per almeno 100 metri, con una barriera radente che difenderà dai marosi e che entro la fine di febbraio sarà finalmente pronta con una variante di bilancio finanziata dai fondi del ribasso d'asta relativa all'appalto iniziale dell'infrastruttura, poco meno di un milione di euro. Ma smottamenti ed erosione restano in agguato, come denunciato al Tg Max dal geologo Luigi Carabba, che ha definito settimane fa l'intervento solo un palliativo, visto che l'intero colle è oggetto di imponente dissesto. La frana del 1916 del resto insegna. Analisi dettagliate sarebbero state d'obbligo. In più i pozzi drenanti della vecchia ferrovia sono stati demoliti cancellati con le acque che penetrano nel sottosuolo e rendono la situazione ancora più a rischio. Ma il sindaco di Torino di Sangro non ci sta in replica. Gli studi sono in itinere, aspettando altri interventi di difesa della costa via mare con barriere frangiflutto e pennelli che non interesseranno solo la difesa della statale 16 e della villetta prospicente. Nino Difonso. Lo sapevamo che c'era un dissesto idrogeologico a nord, abbiamo fatto degli studi e stiamo lavorando con il fioribito dello Stato e siamo andati anche in consiglio comunale per risolvere quelle criticità che i pozzi sono stati chiusi da anni e quindi sicuramente inizieranno i lavori e stiamo risolvendo anche questa criticità. Riguardo i pennelli che devono andare in testa a questo sindaco, purtroppo la devo rispingere di nuovo al mittente perché non è che il sindaco decide o non decide, ci sono le figure proposte a mettere in sicurezza la costa e quindi io sono qui, se devo prendere qualche sasso sto qui da accogliere. Ma pare che i lavori dai nostri progettisti sono efficienti e sono orgoglioso di aver fatto questo intervento ma non basta.